La Prefettura di Salerno ha sciolto il Consiglio Comunale di Montecorvino Pugliano dopo la mancata approvazione del consultivo 2017. Il Prefetto, tre settimane fa, aveva diffidato il Consiglio ad approvare entro 20 giorni il renticonto di gestione 2017, appena allo scioglimento della Sise. A profetizzare dare il scenario l'ex sindaco e l'attuale leader dell'opposizione, Domenico Di Giorgio. Ora la nomina di un commissario prefettizio che guiderà la normale amministrazione del Comune fino alle prossime elezioni nella primavera del 2019. Il sindaco facente funzione Alessandro Chiola non ha rispettato con la sua giunta i termini della diffida scaduta ieri 5 luglio per l'approvazione nell'assise civica della delibera con una seduta che era stata fissata per il prossimo 25 luglio.